E' il calciatore del momento. A Terra Nuova Bracciolini sognano la vittoria contro il Siena, sta esaltando una piazza non nuova, imprese del genere. Del resto la formazione valdanese vanta vittime illustre in Serie D, come l'Arezzo battuto tre anni fa proprio al Matteini, senza dimenticare di recente il Grosseto. Battere il Siena è stato davvero speciale, in cattedra è salito un giovane attaccante alla sua quinta realizzazione in otto presenze. E' pensare che è arrivato a campionato in corso dalla vicina Figline, per di più in prestito. Cristian Iaionese è il terminale offensivo, dunque di una formazione che sta giocando con grande leggiadria questo campionato. Sentiamo cosa ha dichiarato nel post partita con il Siena. Grandissima soddisfazione, bellissima vittoria di squadra, sono molto contento di me stesso, dei compagni. e per me è un momento importante, quindi mi va bene così, insomma. Ti faccio una domanda, perché tu arrivi dal Figline, no? Certo. Ecco, qualcuno da fine ti ha richiamato in questi giorni, dopo tutti questi gol, per capire... No, a parte i complimenti da parte della società, come giusto che sia, perché comunque sono ancora un gioco delle Figline, nessuna chiamata mi è stata fatta. Senti, oggi hai fatto due gol, tra l'altro due gol anche molto simili per come sono andate, due comunque azioni importanti anche dei tuoi compagni, quindi insomma, sembra ci sia anche il Figline, perché ti hanno messo in porta due volte. Certo, certo, no, ci stiamo preparando molto bene alle partite, infatti sono molto contento anche degli allenamenti. e poi, sì, due palle davanti alla porta mi hanno messo, quindi vuol dire che ci siamo arrivati fino al fondo. Senti, le vittorie è questa, contro il Sena, insomma, le vittorie che può dare morale, insomma, per il proseguire il campionato. Certamente, ci può dare morale e sono sicuro che faremo sempre meglio se entriamo in campo con questo atteggiamento. Grazie. Grazie.